allora demanda lorian una terri tv sulla base della saga star wars fatto da locas film quindi una produzione importante con i costumi ambientazioni attori e quant'altro di alto livello sicuramente da vedere da consigliare la trama la sinapsi è appunto c'è questo c'è il mandaloriano mando che è un personaggio che fa in giro sempre con l'armatura non se la può togliere non per motivi particolari ma perché è pronto la la sua setta che la sua tribù la demanda loriani impone rigide una condotta rigida che lui segue la lettera e quindi ogni tanto se la toglie mi pare nella serie ma no nessuno lo può vedere nessuno può vedere il suo volto quindi quando va a dormire sicuramente se la toglie quindi lui è un cacciatore di teste che lavora per l'impero l'impero il nemico poi dei mandaloriani però lui ha bisogno di denaro perché perché deve incontrare perché poi la sua vera missione quella è un'altra lui deve incontrare generare contatti incontrare persone avere maggiori informazioni perché praticamente ha incontrato questo questo perso questo animaletto di un altro pianeta lei lo deve riconsegnare e sulla strada capisce anche che ha poteri magici sposta le cose col potere della mente e quant'altro quindi tutto questo tutte queste emissioni questo girare per i pianeti dell'universo eccetera quindi bello molto interessante fantasy che ti consiglio in descrizione ti metto il link lo segui e poi mi lasci il like se ti è stato utile per il momento ti ringrazio e alla prossima ciao